. 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 Vedete qualcosa di patrullo, Butcher? No, niente. Sembrati. Mi scambi al topo di una palla al nord-estato, e vedo che il heath e la sua palla al nord. Ci sarebbe un punto di guardare fino alla mattina. Excelente. La resistenza ci ha trovato un buon lugar di campare per aspettare il ciò che viene dopo. Ti, guardate qui. Ci cambieremo ogni tre giorni. Arkin chiedevi a te vedere, Butcher. Probabilmente è un po' di una palla. Andiamo a vedere. Molto bene. Resti per una settimana, e poi guardatevi al nord-estato. Allora, dovremmo restare sui piedi. Dissonanti o non, è difficile credere ai umani. Difficulte credere a qualcuno. Entenduto. vedere al nord-estato. No, po' non, è deprecio, che vedo. Forse, il polca fuori, non se transportano. Calute. Vedo. área di stag screwiera. E'íb Sie a promised landre. telli arti, otti dal, è เข, E buon rapproche al nord-estato, Di due dagli italiani, Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!